Ieri la seconda puntata della fiction in onda su Rai 1, Macari, enorme il successo di pubblico per un volume di telespettatori attestatosi sui 6 milioni. Macari rende e dona visibilità all'intero territorio trapanese. Di questo abbiamo parlato con il primo cittadino di San Vito, lo capo Giuseppe Perai. Credo che la scelta di Palomar di girare questa fiction in questi nostri territori, Macari, la provincia di Trapani, sia stata una scelta intelligente e da parte nostra, che l'abbiamo in qualche maniera supportata, ancora più intelligente. Perché è uno strumento in più per promuovere la bellezza di questi nostri territori, per promuovere poi anche la cultura, la cultura intesa in senso lato. Credo che la fiction può rappresentare, di questo ne sono certo, considerate anche i numeri, 6.744.000 la prima sera, 6.190.000 ieri sera, credo che ha tutte le caratteristiche di poter rappresentare il degno sostituto di Montalbano. Così come Montalbano ha rappresentato per la zona del Ragusano un elemento di promozione turistica, infatti i numeri sono cresciuti, io sono certo, e noi come amministrazione ci abbiamo creduto sin dal primo momento, che anche questa fiction aiuterà questo nostro territorio, questa nostra meravigliosa terra di Trapani, all'interno di questa nostra meravigliosa terra di Sicilia, a crescere ulteriormente dal punto di vista di promozione turistica.